questa volta tocca Nero Nero gioca e collega queste due a queste che effettivamente qui è più critico perché se prima poteva tranquillamente vivere nell'angolo e lasciare una singola pietra bianca adesso invece non riuscire a collegarle tutte vuol dire che questo deve vivere per conto suo e tutte queste devono vivere per conto loro e sono tanti queste non le puoi sacrificare perché sono troppi tutti non c'è mai un ego però raramente puoi permetterti di sacrificare tutte queste come si potrebbe giocare essere stati messi sulla buona strada Allora, non in tutte le partite il cavallo collegherai però è importante che venga in mente di verificare se quello funziona perché sicuramente la prima cosa che mi viene in mente è giocare qui loco lì faccio più punti però purtroppo questo non funziona perché ci sono tutti i doppiettari il nero non ha collegato nulla questo invece funziona proprio perché non si riesce a tagliarlo se è bianco lì qui è collegato se è bianco fa quello che alle volte funziona ma ci bisogna di una bianca qui se è bianco giocarsi lì dove? qua si sta la cosa mi piace anche qualcosa di genere perché lì mi piace non c'è mai mi piace mi piace mi piace mi piace ma mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace